Sono 12 modi di ricordarli E' un modo anche di ricordarli Io faccio 3, mentre lui fa 1, gli faccio 3 E quanto è veloce Eh si, eccolo Ecco Si vede poi anche in realtà Senza questo lavoro non vengono Questo press Continua solo per più Ci sono anche delle tecniche che vanno a lavorare sul tipo social di pietra Con la capacità Guardate bene la mia mano destra eh Guardate che controllo sta Quando vedi la gamba attacca fuori Certo Qui deve arretrare un po' di più Perché altrimenti taglio le gamba E su questo io vado a rallentare ancora Ok? Fa Opa Ok Ok Rallentiamo Sul primo attacco frontale Trasformo Nel piano Nel piano Nel piano Io vado a sentare come si fosse il fuoco Adesso è lui che pressa E viene a sentare la mia gola E sono io che mi allento Quindi avete Il cambio Di direzione che facciamo già nel fuoco Su questo 8 Ok L'importante è l'inclinazione Perché se sono qui La spada è arrivata Devo creare un'inclinazione Che permette di uscire Ovviamente poi ci vediamo Un'azione Stella Polaro Pulare Col ginocchio E puntare su di lui Sulla base del collo Dove tutte le culture antiche Sapevano che si moriva subito Guarda Papi lui Lontano quella funzione Mi fa paura Lontano Fare è brutto Ma realista Certo So hush little baby So ascribe